Allora innanzitutto com'è andata sul palco? Benissimo, è andata bene, siamo stati felici di esserci, molto rilassati perché alla fine c'era l'adrenalina di suonare ma non la tensione, quella brutta, quindi ce la siamo goduta. Peccato che come al solito dura poco, però insomma non si può fare altro. Il disco è uscito da poco, a che primi ritorni vi sta dando questo disco? È un disco che mette un punto importante nella vostra carriera. Sì, sono eccellenti perché stiamo avendo tutte recensioni stra positive, stanno succedendo delle cose belle, sono felice che dopo tanto tempo, lavoro dopo lavoro, disco dopo disco, le cose continuino sempre a migliorare, a mettersi in un modo, in una direzione che mi piace particolarmente, sono felice del risultato di storia. Senti, poi qui tu eri anche come produttore dei cazzo che hanno suonato nell'anteprima, come li hai visto? Benissimo, l'ho visto benissimo, avevano solo bisogno di esserci su questo palco perché poi loro sono già pronti per suonare in situazioni così grandi, sono fiero di loro e sono convinto che ci prenderemo tante altre grandi soddisfazioni. Allora, un bocca al lupo e un buon lavoro! Crepi il lupo, grazie, ciao ciao!